La Firenze devastata dall'alluvione del 1966 incontrò la solidarietà di tutto il mondo. Tra questi vivi attestati di vicinanza alla città arrivarono anche dagli Angeli del Bosco, un gruppo di studenti svizzeri che decisero di piantumare 13.000 piante di duglase e pino nero in un terreno abbandonato nel Mugello. Rimbuschini infatti significava anche rallentare il deflusso delle acque nel bacino, ridurre la portata dei piene e attenuare la forza erosiva delle acque. Oggi la memoria di quell'esperienza viene ricordata nel capologo toscano nel corso di un'iniziativa a Palazzo Medici Riccardi, promossa dal Comitato Firenze 2016, tra i presenti anche chi ha vissuto in prima persona quell'esperienza. I ricordi di quei giorni sono molto belli e hanno fatto molto impronta dentro la mia vita, penso, perché abbiamo scoperto una comunità di abitanti molto accoglienti, molto gentili, molto disponibili per noi. Abbiamo trovato anche nel stesso momento un'organizzazione che ci lascia sorpresi, perché in fondo del momento dell'alluvione di novembre a marzo che siamo venuti, e avevano preparato tutto, era tutto pronto per intervenire in questo modo e per diventare un successo quel rimboschamento che abbiamo fatto. È da rilevare anche l'idea originale di questi studenti del Politecnico di Zurigo, perché di aiuti Firenze ne ha avuto tanti. L'idea del Bosco delle Svizie è invece del tutto originale, cioè studenti di ingegneria forestale e politica di Zurigo che pensano al futuro, pensano a ridurre il rischio idraulico della città, non a intervenire con aiuti immediati, ma pensano che Firenze per essere protetta ha bisogno di una gestione del territorio che sia lungimirante, che esprima la sua potenzialità nel tempo. Il Comitato Firenze 2016 ha dunque acceso i riflettori sulla memoria e sulla straordinaria opera portata avanti dagli studenti svizzeri, un'iniziativa che oggi rivive con un progetto importante che andrà a sostenere opere edilizie antisismiche per la comunità locale mugellana, riempigando proprio il prodotto principe del Bosco degli Svizzeri, il legno. L'idea mia è stata quella di usare questo legno per delle costruzioni antisismiche nel Mugello, soprattutto per le scuole, ma anche per impianti pubblici. Il legno oggigiorno, in questo caso il legno di Douglasia, che è specifico di questo bosco, ha raggiunto le capacità di essere utilizzato per le costruzioni resistenti a terremoti uniche. Questi materiali che ora dovranno essere tagliati, quindi per rendere anche la vita naturale del bosco, quindi arrivato anche al momento in cui il bosco deve essere portato a una nuova vita, questo materiale non verrà riutilizzato per altri tipi di interventi, ma verrà convogliato su interventi infrastrutturali, interventi antisismici che riguarderanno le scuole del Mugello, nello specifico per quanto riguarda il comune di Borgo San Lorenzo e il comune di Scarperie San Piero.